eccoci per un nuovo airdrop airdrop che è stato confermato e mi raccomando prima di iniziare ad effettuare ogni airdrop utilizzate un wallet non custodia dedicato e non mischiate mai gli airdrop con i vostri fondi con i vostri wallet dove avete token da trading o da hotel perché dico questo perché nella maggior parte dei casi si può incappare in dei toque scam a forza di cliccare sul link per fare le tasche finire su un link di fishing e quindi venire hackerati ed è meglio che venivamo hackerati in wallet vuoto dove eventualmente abbiamo solo perso del tempo per effettuare delle tasche piuttosto di venire a chiarati nel nostro portafoglio reale dove oltre tempo abbiamo investito dei veri soldi per acquistare i nostri tocchi allora quest'oggi vi porto il leirdrop di pixel solo a gennaio ha ricevuto da animo che brand più di 2,4 milioni di dollari per riuscire a espandere la propria block cene e integrare due token nativi pixel per le amanti dei videogiochi in stile old style permette di creare della community interagire in questo mondo dove si può farmare coltivare allevare insomma effettuare la simulazione di vita di un contadino fantastico in stile pixel art ma non solo ci saranno poi in sviluppo altri giochi per prima cosa bisogna cliccare sul link in descrizione vi apparirà la pagina di pixel dove si andrà a creare un nuovo account potrà essere richiesto di creare un account tramite meta mask oppure tramite ronin perché è stato integrato anche da ronin l'avevamo utilizzato qualche anno fa giocando con con gli axi se vi ricordate sul canale ho portato diversi tutorial sia di ronin sia per quanto riguarda axi in soldoni bisogna partecipare ai giochi e ottenere dei punteggi ottenere dei badge e va da sé che più in alto arriviamo con i nostri punteggi con le nostre classifiche più saremo elegibili per l'air drop l'air drop sarà distribuito sicuramente per i primi 7000 in classifica mentre poi per altri utenti verranno selezionati per diversi premi per andare a sbloccare questi badge possiamo cliccare direttamente sul belge che ci interessa e andare a sbloccarlo cliccando su play the game si apre la schermata che ci permetterà di andare a effettuare la task per sbloccare quel badge abbiamo capito che per sbloccare i badge bisogna effettuare delle tasche giocare anche giochi vi consiglio ovviamente al momento di non caricare il wallet con token o quant'altro aspettare se arrivano delle tasche dove c'è necessario effettuare delle transazioni o quant'altro non velo so dire con certezza se ci sarà ad aggiungere dei fondi perché anch'io adesso sto iniziando a giocarlo comunque i primi 7000 riceveranno l'air drop altri mille verranno selezionati per avere dei premi aggiuntivi il token in questione deve essere ancora rilasciato al mercato dovrà essere anche inserita una token omics vera e propria quindi chi parteciperà a questo e ieri dopo potrebbe essere proprio un pioniere di questa categoria di giochi pixel trasferitasi sulla block chain di ronning che sappiamo essere una botte cene molto veloce soprattutto adatta al gaming e web 3